Il ruolo di Asfor in questo contesto? Innanzitutto noi ci siamo sempre mossi nell'ottica di fornire alcune chiavi di lettura di alcuni processi. Il processo di accreditamento che Asfor ha attivato a partire oramai dal 1989 ha visto proprio questo obiettivo e quindi per noi è stato a un certo punto abbastanza naturale partire da quello che era l'esperienza del processo di accreditamento per arrivare a costruire da subito con l'aiuto anche devo dire di Siel perché la comunità è importante quello che ha detto Stefania prima cioè noi siamo è vero delle associazioni con delle ragioni sociali diverse noi associamo persone giuridiche, life, persone fisiche, Siel un po' uno un po' l'altro però la cosa importante è che parliamo lo stesso linguaggio parliamo linguaggio di chi come operatore della formazione sia in rappresentanza di scuole di management ma sia in rappresentanza del sistema delle corpore delle imprese piccole medie professional università e quant'altro ha come unico obiettivo anche quando parla di formazione attraverso i learning o blended learning e quant'altro di ricercare un fattore comune che è la qualità del processo no? E noi come ci siamo mossi in questo contesto? Innanzitutto una delle prime esperienze che Asfor ha portato avanti è stata proprio quella del glossario, il glossario per noi è stato importante perché attraverso il glossario abbiamo anche definito una serie anche di parametri, punti di riferimento che poi ci sono serviti quando abbiamo poi cercato di costruire questo processo di accreditamento ovviamente il processo di accreditamento degli learning executive master arriva dopo una serie di esperienze sui programmi tradizionali però per noi è stato molto importante in dire focalizziamo un concetto comune che riprende anche quello che diceva Bene Stefania in modo tale che tutta la comunità, tutti quelli che operano in questo contesto si trovano in qualche modo. Il vantaggio che abbiamo avuto in questa fase è che come sempre essendo un po' pionieri abbiamo consigliato, avuto anche l'occasione di costruire un wiki che è a disposizione della comunità scientifica, perciò di tutti noi, per implementarlo ulteriormente. Questo è un posizionare delle competenze, delle capacità, delle conoscenze per mettere a sistema e quindi cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso a un certo punto di dare visibilità a quelli che sono i giovani talenti dentro la nostra università perché attraverso questa riflessione noi abbiamo lanciato questo bando di talenti di learning e qui è ricorrente anche la collaborazione con Siel, è un bando che è ancora in essere, perciò per chi ha studenti universitari, per chi è all'interno dei percorsi, è un bando che premierà le migliori tesi in questo campo, però perché? Perché riteniamo importante costruire una comunità scientifica il più allargata possibile, il più allargata possibile, che dialoghi su questi temi e che dialoghi nella logica, come diceva Stefania, di non considerare i learning come un qualcosa di esterno del processo formativo, ma come un qualcosa all'interno del percorso formativo, come io dico sempre per semplificare una gamba di un tavolo che deve sempre essere sempre più solito e più innovativo. Allora, per chiudere, perché sennò poi vengo meno a quello che è stato l'idea che avevamo concordato con gli altri colleghi, noi abbiamo lanciato, a seguito di questa esperienza maturata con gli accreditamenti di Master Engineer Management, Specialistici MBA e quant'altro, nel 2005 un processo di accreditamento degli Executive Learning Master nelle due versioni Specialized MBA, ma soprattutto abbiamo cercato già allora di dare una definizione molto aperta di quello che era allora l'e-learning, già per noi tutti, già blending, ma poco praticato come blending, perché il rischio vero degli e-learning, perché tutti si ricordano, magari qualcuno lo citerà, le prime esperienze di e-learning erano delle cose terrificanti per chi le doveva subire, perché non c'era interattività, perché non c'era relazione, perché non c'era possibilità di creare community e quant'altro. E quindi già allora avevamo colto questo aspetto. La cosa complicata è stata quella di definire un processo all'interno del quale ovviamente risulta molto importante proprio la capacità dei professional che stanno all'interno di governare, perciò molto molto importante anche questo collegamento con l'attività di AIF, perché noi riteniamo che ancora di più in un processo complesso come è un Executive Mastery Learning, che per noi ha delle caratteristiche importanti, adesso vi lascio questo, poi chi vuole lo scarica dal sito e via via, cioè non è un percorso banale, è un percorso che deve vedere una equivalenza tra un Executive MBA o un Executive tradizionale e quindi noi l'abbiamo proprio strutturato in modo tale da consentire in una fase di didattica, fase in presenza, perché per noi comunque noi parliamo di formazione maggiorale, riteniamo che la formazione maggioriale sia importante sviluppare queste capacità e competenze attraverso anche uno scambio di presenza, attraverso anche una relazione molto forte, ma soprattutto mettendo insieme anche dei professional capaci di coordinare questo processo, perché poi come lo diranno i rappresentanti dei Master che noi abbiamo accreditato in questo ambito, molto di questo contesto viene gestito proprio dalla capacità dei soggetti che non sono il classico docente, perché in un Master tradizionale, a prescindere, io mando in aula un grande, un istrione, qualcuno mi gestisce la cosa, qui il processo è molto più complesso, non vi tolgo altro tempo rispetto alle relazioni, poi avremo modo di interagire. Grazie per l'attenzione.